Eccoci qua, eccoci qua sul video delle magliette, delle nuove, del nuovo kit 2021-2022, non 2000, du, 2021 e 2022. Innanzitutto ragazzi vi ringrazio in partenza per il video di ieri perché l'ho fatto praticamente a caso, senza dire niente a nessuno. È piaciuto a tutti, cioè a tutti, ve lo giuro, un sacco di gente mi ha scritto su Instagram, poi vabbè sotto anche nei commenti di YouTube. Vi ringrazio, di sicuro una serie che porterò avanti, per chi non l'ha vista guardatemi il video prima di questo che è, indovina il calciatore dalla carriera, Viola Edition, Edition. E ragazzi, oggi parliamo delle magliette, delle nuove magliette. Allora, premetto, sono bellissime, sono meravigliose, mi piacciono un sacco, tutte, tutte, levata forse la quarta, e gialla e viola, un po' un pugno in un occhio versione Lakers, però per quanto si utilizzerà sti cazzi, ovviamente io faccio la critica adesso alle magliette, uno non mi venga a scrivere sotto nei commenti, Eh, ma ora non dobbiamo pensare, le magliette, il cazzo se ne frega, importa la squadra, l'allenatore, le cessioni, i nuovi acquisti? Bene, in questo video si parla delle magliette, poi quando si parla di tutto il resto, ok, siamo d'accordo. Poi, sono meravigliose, quella viola mi piace, mi piace molto di più di quella dell'anno scorso, quella dell'anno scorso non mi piaceva per niente, cioè era brutta, secondo me è proprio brutta, era brutta con le righe nelle maniche bianche, brutta, proprio brutta, non mi piaceva il design, infatti io non l'ho comprata apposta perché non mi piaceva, non mi piaceva. Quella, la seconda viola, scusate, bianca dell'anno scorso mi piaceva ma non mi faceva impazzire, quella di quest'anno ragazzi, bianca, è una delle cose più belle che abbia mai visto, mi piace un sacco con la riga della media home qua, viola, bellissima, è bellissima, semplicissima, senza tutte magari qualche smerlatura particolare, bellissima, mi piace un sacco, è penso la mia preferita tra le quattro appunto, ma a mani basse, cioè proprio senza guardare, appena l'ho vista, c'era solo quella bianca per me, e il magico Pietrone Terracciano ce l'aveva indosso, quella viola mi piace, non è eccezionale ma comunque mi piace. Poi, poi, probabilmente sarò l'unica voce fuori dal coro, ma io semplicemente vi dico la mia. C'è stato appunto questo cambio, questo ritorno alle origini dello stemma, che a me personalmente non è piaciuto. Probabilmente sono l'unico a dirlo, penso di essere l'unico a dirlo, ma non perché, guardate bene, non perché non mi piace il vecchio stemma, anzi, vecchio stemma, io c'ho un sacco di vecchie magliette, anche quella di Antonioni originale nell'armadio, perché le vecchie magliette anni 80-90 sono appunto delle maglie più belle che ci siano mai state appunto nella storia della Fiorentina, anche perché quelle di prima, insomma, anni 60-50, insomma, devi essere un collezionista per averle, o comunque, insomma, te le deve aver passate qualcuno perché appunto sono dei pezzi unici, pregiati, insomma. Comunque, come design, di design che ho visto le ultime magliette degli ultimi anni, diciamo che queste sono quelle migliori, ma non mi è piaciuto il cambio di stemma. Perché? Perché, ragazzi, secondo me, come la vedo io, la visione che vedo io, io sono uno molto conservativo sotto questo punto di vista. Intanto partiamo dal presupposto che per me il nostro stemma attuale, non quello appunto cambiato, vecchio, ripreso dalla versione anni 80, il nostro stemma attuale, quello della Fiorentina attuale, questo qua, faccio vedere la maglietta di due anni fa, vabbè, ma è per dire tanto, per capirsi. Questo stemma qua, ragazzi, secondo me, a mio avviso, a mani bassissime, sono anche di parte, ma comunque a mani bassissime, è lo stemma più bello della Serie A, ma più bello, semplicissimo, è l'unico che ha questa forma, ha tutti i colori della città e della maglietta, è perfetto, è perfetto. Quindi io non l'avrei cambiato anche per quel punto di vista. Poi, tu mi vuoi dire, voglio fare un rinnovamento dello stemma. Va benissimo, l'ha fatto la Juve, l'ha fatto l'Inter, l'ha fatto il Verona, l'ha fatto l'Empoli, l'ha fatto un sacco di squadre, magari a chi è piaciuto il nuovo stemma, a chi non è piaciuto, però il rinnovo dello stemma, appunto, mi piace, mi piace come idea. Non mi piace il fatto di prendere il vecchio stemma, che magari potrà durare anche un anno, perché vatte la pesca, magari nell'annata 2022-2023, si riprende lo stemma, appunto, questo qui, questo che vi ho fatto vedere adesso di questa maglietta. Cioè, e quindi praticamente lo stemma vecchio, così, per fare, goliardicamente, è durato un anno. Allora, se te lo vuoi fare una cosa del genere, cioè il gatto starnutisce, se te vuoi fare una cosa del genere, a mio avviso lo devi fare magari con una maglietta celebrativa. Cioè, nel senso, magari che ne so, nel 2026, quando saranno 100 anni che esiste la Fiorentina, appunto, nel mondo in generale, una maglietta celebrativa in quell'annata lì l'avrei apprezzata tantissimo, perché effettivamente da lì riconosci che la Fiorentina ha 100 anni, però che quest'anno ne ha 95. Però, sì, o i 50 anni, magari, del debutto di Antonioni con la Fiorentina, per esempio, però non mi ricordo, mi sembra che siano stati nel 72 o nel 74, non vorrei dire una cazzata, ma comunque, se non sbaglio, 72, però non me lo ricordo esattamente, ragazzi, l'anno, appunto, del debutto di Antonioni a Firenze. Per esempio, fosse stato, facciamo nel 72, l'anno prossimo, ma quella di quest'anno, prenderlo così, lo stemma, prenderlo così, riprenderlo da quello vecchio, che è la storia della Fiorentina, è la storia, riprenderlo così, così, senza un vero e proprio motivo, ma per rifare, magari, una maglia nuova, con, appunto, dei canoni moderni, ma riprendendo il vecchio stemma, a me non è piaciuto tanto, sinceramente, come idea, come scelta. Poi, bellissime le maglie, sono meravigliose, di sicuro comprerò sia quella viola che quella bianca, perché sono tutte e due bellissime. Quella viola, appunto, ripeto, poi ripresa col vecchio stemma, è uguale, andatevi a vedere, chi magari non se la ricorda, quella di Antonioni è uguale, identica a quella, appunto, di Antonioni negli anni Ottanta, perché, invece di esserci il... Quello, oddio, qual era lo stemma di Antonioni, ricordatemelo sotto nei momenti da follow... Come cazzo era? Era una marca d'abbigliamento, non mi ricordo quale. E c'aveva, appunto, la riga bianca, come quella di adesso della media, come è identica, è solo... Non è fatta di flanella, l'unica cosa è identica, è uguale, spiccicata. Sembra, appunto, una maglietta celebrativa, più che una maglietta dell'annata. Io, ovviamente, uno magari mi dice ma che cosa vuoi rompere, coglioni, è bellissima. Io vi faccio solo sapere il mio pensiero. Non avrei cambiato lo stemma, il design delle magliette è bellissimo, l'unica cosa, non avrei cambiato lo stemma, ma poi, ovviamente, sono punti di vista. E vorrei sapere anche il vostro. In generale, ho capito che a tutti sono piaciute, anche a me, eh. A me... Parliamoci chiaro. Sono bellissime, le comprerò di sicuro appena usciranno nel Viola Store. Sarò il primo a comprarle o a ordinarle, comunque, online. L'unica cosa è che io, ragazzi, questo stemma qui, appunto, l'ho visto per una vita. Mi piace un sacco, mi è sempre piaciuto un sacco. E, ripeto, a mio parere, è il più bello della Serie A, a mani bassissime rispetto a tutti degli altri che ci sono. E il cambiarlo, il ritornare a quello vecchio, non mi è piaciuto più di tanto per un fatto di, diciamo, appunto, di conservazione del simbolo. perché per me quello è il simbolo che ha avuto Firenze in quegli anni lì, riprenderlo per usarlo così, come se fosse un vecchio giocattolo, solo per un anno, magari, magari rimane da qui ai prossimi dieci anni, eh, ma magari dall'anno prossimo non c'è più. Capito? È quello che vi volevo dire. Poi fatemi sapere la vostra sotto nei momenti, ragazzi. Sempre forza viola, ragazzi. E andiamo quest'anno, dai. Speriamo sia davvero l'anno zero. Ciao.